L'Otta K.O. dell'Arena Centro Città di Poké Top L'Otta 1 Bene, la lotta sta per iniziare Sono pronti per la lotta e aspettano soltanto gli ordini dai rispettivi allenatori Comincia la lotta La mossa fallisce Un colpo di ruffetto Che potenza! Tonica! Sei ripreso ed è più sollevato Ci troviamo in una situazione di stallo È una prova di concentrazione Un continuo tentativo di prevedere le mosse dell'avversario Che colpo! È esausto e deve abbandonare il campo! Butterfree scende in campo Il Team Blue è in vantaggio numerico Ma non è ancora possibile prevedere come andrà a finire Butterfree usa la sua mossa Che spentola! Un potentissimo colpo lo manda K.O. Farfetch'd scende in campo L'atmosfera nell'arena è tesa e concitata Che colpo! Un potentissimo colpo lo manda K.O. L'incontro è finito È una vittoria netta per il Team Blue Stiamo assistendo a una lotta infuocata Un colpo poderoso Un potentissimo colpo lo manda K.O. Vai brava scende in campo Entrambi i contendenti hanno ancora la possibilità di vincere Assisteremo a un colpo di scena Sta per abbattersi una terra in festa sull'arena Il Team Blue non riesce ad agire Espeo Sta perdendo lentamente energia La precisione cala Il Team Blue non riesce ancora ad agire Nell'arena è imperversa una tempesta di sabbia Come si ripercuoterà tutto ciò sulla lotta Che colpo? Un potentissimo colpo lo manda K.O. L'ombra scende in campo La lotta si sta avvicinando alla fine Il Team Blue cambia schieramento Pidiot scende in campo L'ombra si prepara all'attacco Un attacco multiplo Continua a causare danni La lotta si sta avvicinando alla fine E l'atmosfera è sempre più tesa Un colpo di rompente Che potenza! Un colpo poderoso E' rato capo Piogre scende in campo Non appena è apparso Piogre Nell'arena ha cominciato a piovere a catinere Comincia la lotta E' colpito da psichico E' già fuori gioco La mossa fallisce Grotl scende in campo Il Team Rosso ha già subito dei danni considerebili Ma ha ancora la possibilità di recuperare Un colpo di rompente Un colpo di rompente Precisissimo Un danno consistente Un attacco di squadra Mewtwo resiste a malapena Piove a catinelle nell'arena Come si ripercorrerà tutto ciò sulla lotta Mewtwo Mewtwo E' di nuovo in forno Piogre Non riesce ad agire a causa di un attacco precedente Un colpo di rompente Precisissimo Un colpo di rompente Un colpo di rompente Un colpo di rompente Non ce l'ha fatta a ridire Il secondo colpo è reattato K.O. Un colpo di rompente Un colpo di rompente